ecco oggi sono venuto qui nel quartiere dell'amico mio pupi antichi il nostro fiero scudiero che oggi ci ha segnalato questa sciagura questo scempio a cielo aperto guardate qua qui davanti a tutti ci sono i buchi e dentro quei buchi ci sono i sorci sono tane di sorci che stanno lì da secoli e la gente cammina con i bambini e va a buttare la mondezza ignara di tutto perché sotto ai cassonetti ci sono mandri e di sorci mandri e di sorci che stanno lì stazionano e portano malattie e l'amministrazione è latente che non fa niente di anni lo sanno tutti che in questo quartiere c'è questo problema bisogna fare qualcosa è ora di dire basta a questo scempio come facciamo noi ad andare a buttare l'immondizia in questo quartiere guardate qua ecco qua guardate questi cassonetti sono anni che stanno qui l'amministrazione aveva promesso ai cittadini che li aveva tolti questi cassonetti perché deve fare deve incentivare la raccolta differenziata e questa promessa è rimasta evasa come al solito sono tutte promesse che fanno soltanto in campagna elettorale e adesso queste sono le condizioni tutti vengono a buttare l'immondizia qua perché ci sono i cassonetti ecco io voglio prendere la parola adesso caregisto per far capire a tutti che non è una condizione normale dei poveri cittadini non è possibile che questi amministratori pseudo fanno tutto questo scempio come dici te non è possibile che promettono e promettono e promettono e poi non fanno mai niente e quindi facciamo qualcosa tutti insieme con l'associazione e tutti quanti quelli che si vogliono unire facciamo qualcosa tutti quanti insieme è giusta la battaglia che fa il signore gisto seguiamolo tutti e andiamo tutti a rompere le palle all'amministrazione basta